Le Marche tornano in zona gialla da domenica 31 gennaio, accettata dal governo la richiesta del presidente Francesco Acquaroli. Screening scuole sicure, buona affluenza per il secondo giorno di tamponi a Pesaro, 6 positivi su 2700 tamponi, soddisfatto il sindaco Ricci, la regione prende esempio e lo faccia per tutti gli studenti marchigiani. Distanziamento, nuovi aiuti e modalità di intervento, niente più come prima anche per la Croce Rossa italiana, in prima linea dall'inizio della pandemia. Su Fano TV il racconto del presidente del comitato di Marotta Mondolfo, Luciano Serio. Aiutateci a salvare la chiesa di Carignano al via una raccolta fondi per ristrutturare il luogo di culto del piccolo borgo dell'entroterra fanese, l'appello lanciato tramite un videospot. Vogliamo riaprire la nostra chiesa per tutte quelle persone che qui trovano la loro armonia e possono gustare la bellezza dello stare insieme. Polveri sottili a Fano attive, 5 centrali nel punto, con l'assessore Barbara Brunori che a metà febbraio annuncerà i risultati sugli sforamenti del limite massimo di PM10. A Barchi, dopo l'appello dei cittadini, è stata ripristinata la normale apertura dell'ufficio postale, a Cartoceto è quasi pronto, lo stadio Amati con i nuovi campi in sintetico e gli spogliatoi, mentre a Fano è arrivato il motopontone al via i lavori per le scogliere di Sassonio. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli, il governo ha dato la comunicazione ufficiale nel tardo pomeriggio di oggi. Le marche torneranno in zona gialla da domenica a 31 gennaio. L'ha annunciato, come vedete, con un posto sul suo profilo Facebook il governatore Francesco Acquaroli. L'ordinanza del ministro Speranza rimarrà in vigore fino a domenica 7 febbraio. Intanto nella nostra regione sono morte altre 16 persone nelle ultime 24 ore con coronavirus. Tra le vittime anche un fanese di 83 anni. I nuovi positivi sono 371, di cui 111 nella provincia pesarese. Oggi la più colpita. Callano ancora i ricoveri negli ospedali, meno 8 rispetto a ieri. In lieve aumento i pazienti in terapia intensiva, in diminuzione quelli in semi-intensiva. Si svolgeranno domani alle 10.30 nella chiesa nuova di Gimarra i funerali di Fortunato Seri, papà del sindaco di Fano. L'anziano di 83 anni era ricoverato all'ospedale San Salvatore di Pesaro a causa del Covid-19 che aveva contratto nella residenza sanitaria assistenziale Don Tonucci, in cui era ospite. La chiesa, ci fa sapere il parroco Don Gianni Petroni, potrà contenere circa 100 persone. Fortunato lascia la moglie, due figli, il primo cittadino appunto è Cinzia, e i nipoti. Centinaia in queste ore i messaggi di cordoglio e di vicinanza all'intera famiglia. E adesso ci spostiamo a Pesaro, dove si è svolta la seconda giornata dedicata allo screening per gli studenti e il personale delle scuole superiori. Sei positivi riscontrati su circa 2.700 tamponi. Allora vediamo nel servizio di Angelica Panzieri che cosa è successo. Angelica questa mattina ha intervistato anche il sindaco di Pesaro. Matteo Ricci, sentiamo. In fila, distanziati, per sottoporsi al tampone antigenico rapido. La macchina organizzativa ha funzionato bene anche questa mattina, secondo giorno di screening volontario per il primo 50% degli studenti delle superiori pesaresi rientrati a scuola il 25 gennaio scorso. Dalle otto e mezza del mattino, muniti del modulo di adesione, si sono messi in coda classe per classe ed hanno atteso il proprio turno. Questa volta è toccato ai ragazzi dell'alberghiero Santa Marta e del campus, quindi istituto Bramante Genga, liceo Mamiani e Benelli. E ancora ad essere utilizzata per lo screening la palestra del liceo artistico Mengaroni. A fare un primo bilancio dell'operazione il sindaco Matteo Ricci, che questa mattina ha fatto il tour negli istituti. Siamo molto soddisfatti perché l'affluenza è alta e grande senso di responsabilità da parte degli studenti, da parte del mondo della scuola. E la dimostrazione è che serviva, serviva per rendere il rientra a scuola più sicuro. Ed è la dimostrazione che serve in tutta la regione, perché io sono contento per i ragazzi di Pesaro che hanno questa opportunità, ma penso che sia un'opportunità che dobbiamo dare a tutti gli studenti della regione Marche. Avrebbe ripetuto, io credo, una volta al mese. La regione Marche ha i tamponi sufficienti per farlo. Ad oggi, a rientro dai primi dati, pare che la scuola sia sicura, perché soltanto un insegnante ha risultato positivo nella prima giornata. Il secondo turno, che coinvolgerà l'altro 50% degli studenti in presenza, si terrà il 2 febbraio con i test in programma al campus Santa Marta e Mengaroni e il 3 febbraio al campus Cecchi e Mengaroni. Qui confluiranno gli studenti delle scuole del centro storico e quelli della nuova scuola, mentre al liceo Marconi tutti i ragazzi del campus. Nella giornata di ieri sono stati quasi 1200 gli studenti che hanno effettuato il tampone e anche in questo secondo giorno l'adesione è stata alta. Questi ragazzi sono veramente maturi e sono in grado di sapere scegliere e di poter valutare le situazioni. Credo che veramente le scuole sono un luogo sicuro e poi ci sono degli insegnanti molto responsabili che sanno addestrare e perlomeno incitare i ragazzi a comportarsi adeguatamente. Credo veramente che sia un esempio di buon vivere, di sano vivere, che va ripetuto il più presto possibile. Il preside del liceo Mamiani, Roberto Lisotti, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione da parte degli studenti del suo istituto. Adesso la sensazione è che ci sia un'adesione abbastanza alta, a occhio c'è il 60-70%, quello che si nota è una disomogeneità nelle classi, ci sono classi che hanno partecipato quasi interamente, classi un po' più limitate, forse dinamica di classe fra i ragazzi. Una fotografia sistematica che aiuta a gestire la didattica in presenza con serenità, ha detto la preside del liceo artistico Serena Perugini. Ieri su 330 ragazzi circa presenti, un 190 hanno effettuato il tampone, quindi un buon 60%, per cui siamo soddisfatti. Applichiamo i protocolli, però lo screening è un'ulteriore azione di controllo molto efficace. E i carabinieri del Norm di Urbino, durante un controllo finalizzato alla prevenzione delle sostanze stupefacenti, hanno fermato un 27enne marocchino che stava viaggiando a bordo di un'auto a Schieti in direzione Pieve di Cagna. Il giovane aveva occultati nel taschino della felpa 36 grammi di hashish e 8 di cocaina. Subito arrestato, il 27enne è stato opposto agli arresti domiciliari. Questa mattina poi si è svolta la direttissima e il giudice lo ha rimesso in libertà perché è incensurato. Come è cambiato il lavoro della Croce Rossa italiana in tempi di pandemia? Nella prossima servizio Letizia Marchionni vi racconterà le differenze rispetto al passato insieme al presidente del comitato di Marotta Mondolfo, Luciano Seri. Distanziamento sociale, restrizioni e nuove abitudini. Quanto è cambiata la quotidianità per ognuno di noi e quanto è cambiato il lavoro di coloro che sono da un anno a questa parte sempre stati in prima linea nella battaglia contro il Covid come i volontari della Croce Rossa. Abbiamo fatto il punto con Luciano Seri, presidente della Croce Rossa del comitato di Marotta Mondolfo che afferma ci siamo dovuti reinventare dagli interventi di primo soccorso alle attività di volontariato che l'associazione svolge. Niente è più come prima, sia sul versante organizzativo ma soprattutto su quello umano. È tutto cambiato nel sistema nostro socio-sanitario, le telefonate sono triplicate, la gente ha paura di andare in ospedale però abbiamo visto che gli anziani vorrebbero ma hanno il timore e la paura di confrontarsi con le strutture ospedaliere. Abbiamo notato anche che salendo in ambulanza i nostri operatori, i nostri volontari, i nostri dipendenti hanno bisogno di una marcia in più per supportare le persone che devono andare a fare anche visite normali perché le vedi che solo già dallo sguardo degli occhi sono disorientate. Tu la persona neanche ti riconosce o non la riconosci. Allora molte volte fai fatica anche a parlare con un... perché in questo momento tu sei un astronauta cioè con il caschetto, con gli occhiali, con la mascherina, con il camice sopra, i calzari per le scarpe, i doppi guanti quindi è difficile e noi abbiamo il supporto dei nostri psicologi all'interno della Croce Rossa che anche a noi aiutano a gestire questa emergenza. Ma non sono solo gli interventi di primo soccorso ad essere ben diversi rispetto al passato pre-pandemia ha continuato Seri. Tante sono infatti le azioni di volontariato che si sono aggiunte a quelle già svolte precedentemente dall'associazione o che sono state potenziate come ad esempio la distribuzione a chi ne ha bisogno di viveri, pigiami e coperte ed il supporto psicologico simbolo di una comunità che necessita di grande sostegno in un periodo così delicato. Il supporto psicologico che questa è una cosa importantissima anche lì ci sono molte situazioni particolari, la gente si vergogna la pandemia ha portato gente con la depressione, la gente economicamente che ha perso il lavoro quindi sono tutte situazioni che noi cerchiamo un attimino di aiutarle Abbiamo delle situazioni per esempio qui che non si era mai sentita, abbiamo delle due o tre persone che vivono al freddo e al gelo, l'unica soluzione che possiamo è dargli vestiti puliti, nuovi, qualcosa da mangiare ogni tanto noi prima sì c'erano delle famiglie, tre, quattro, cinque, sei persone, famiglie che avevano bisogno di adesso sono non dico a centinaia ma in tutti i tre comuni noi abbiamo quasi un centinaio di famiglie che sono sotto la soglia della povertà Aiutateci a salvare la chiesa di Carignano è l'appello lanciato oggi da alcuni fanesi che hanno avviato una raccolta fondi per salvare il luogo di culto inagibile dalla scorsa estate Crepe profonde che hanno portato all'inagibilità del luogo di culto calcinacci a terra, dipinti da ristrutturare, l'intonaco che si stacca e una memoria da mantenere il tempo non è riuscito a debellare il senso di comunità e di appartenenza che rende Carignano unico e particolare Con un video realizzato da Alessandro Guccioni i residenti non solo hanno lanciato un appello per salvare il centro vitale del piccolo borgo la chiesetta dei Santissimi Pietro e Paolo ha subito un cedimento strutturale importante nella scorsa estate tant'è che il Vescovo Armando Trasarti e gli uffici preposti sollecitati dal parroco Don Giuseppe Tintori hanno provveduto ad avviare i principali interventi I lavori però sono tanti e di natura diversa per questo la cittadinanza ha organizzato una raccolta fondi attiva da oggi Ma non perché, perché sappiamo che prima di attivare un cantiere occorrono tempi piuttosto lunghi qui invece è accaduto molto velocemente e questo ci ha fatto piacere tant'è vero che dal 15 di dicembre ci sono i lavori in corso e possiamo già quasi dire che a metà febbraio i lavori finora commissionati dovrebbero finire è chiaro che questo non ci basta, nel senso non che non ci basta quello che è stato fatto ma noi vorremmo di più, ecco perché è venuta l'idea di una raccolta fatta dal Paese anche perché il Paese oramai si è sensibilizzato tantissimo questo vuole essere compartecipe di questa rinascita e perché no? allora prima è nata l'idea di raccogliere qualcosa qui fra i residenti ho detto ma cosa vogliono raccogliere? Siamo talmente pochi e allora ho detto lanciamo una raccolta mi è venuto in mente questo crowdfunding perché oggi funziona così siamo in un piccolo borgo dove sembra che tutto sia ancora legato al passato ma in realtà non è così, è un borgo pieno di vita, c'è gioventù, c'è voglia di fare e allora siamo pronti anche a affrontare il mondo con queste nuove tecnologie perché rappresenta un'eredità culturale e abbiamo il dovere di conservarla perché è un punto di riferimento per vivere la sede perché senza chiesa spolfè la festa Sant'Antoni perché se non possiamo andare a messa ci tocca giocare sulla carta perché qui ci incontro i miei amici Si può donare tramite un bonifico che fa riferimento al conto parrocchiale proprio e con questa possibilità tutti i sostenitori del progetto riceveranno anche per la detrazione fiscale la ricevuta Un'altra possibilità più moderna è col grandfunding quindi sempre i sostenitori possono donare qualsiasi cifra e nella nostra pagina Facebook dove viene lanciato il video ci saranno indicazioni sia delle coordinate IBAN nel conto corrente parrocchiale e sia le modalità, le istruzioni di come operare sul grandfunding E ci sono buone notizie per i cittadini di Barchi che proprio su Fano TV avevano chiesto a gran voce la riapertura per più giorni dell'ufficio postale Oggi il sindaco Antonio Sebastianelli ha fatto sapere che dal 15 febbraio l'ufficio riaprirà tre giorni a settimana è stato ripristinato l'orario che c'era prima della pandemia Il risultato non era così scontato, ha commentato il primo cittadino Quanto ottenuto è importante specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria e al fine di mantenere un corretto svolgimento dei servizi pubblici essenziali Sono in via di ultimazione invece i lavori di riqualificazione dello stadio Amati a Lucrezia di Cartoceto L'impianto, grazie ad un primo intervento di 209 mila euro avviato dall'amministrazione nel primo mandato è stato potenziato con due campi in erba sintetica Inoltre è stato dotato di impianto di illuminazione di nuovi spogliatoi e dei percorsi di collegamento tra le varie strutture Un secondo intervento di 80 mila euro è stato invece volto a riqualificare vecchi spogliatoi, nuova impiantistica in fissi e pavimentazione una nuova centrale termica e un impianto di ventilazione e ricambio d'aria oggi quanto mai necessario negli ambienti chiusi migliorie che permettono di tornare a utilizzare dunque gli spazi in tutta sicurezza E a proposito di aria, a Fano continua il monitoraggio delle polveri sottili 5 le centraline attive in città Gli odori li registra ogni giorno, le polveri sottili ogni ora Stiamo vigilando e affrontando il problema delle polveri sottili lo assicura l'assessore all'ambiente del comune di Fano Barbara Brunori che ha fatto il punto sui dati e sulle centraline attive Ad oggi abbiamo 5 monitoraggi in corso, spiega l'assessore a partire dalla centralina di Paci che il 24 dicembre scorso aveva avuto delle anomalie di funzionamento ma è tornata a regime Sempre a bellocchi di fronte al troni ce n'è una mobile che indaga sia sugli odori che sulle PM10 mentre in via Papiria la centralina appena ha terminato di rilevare i dati e verrà presto analizzata Ulteriori due mini campionatori sono stati posizionati in piazza Bambini del Mondo e in via Campania Tra una quindicina di giorni si avranno i risultati anche di questi ultimi due Successivamente sono stati posizionati due mini campionatori all'interno della zona industriale uno nell'autoparco e uno all'interno invece di via 21esima strada che quelli invece sono proprio quelli messi dall'università di Urbino che è il dipartimento di scienze pure ed applicate alla quale abbiamo dato un secondo incarico per andare ad indagare sulla speciazione delle polveri sottili di capire appunto quali tipi di polvere vanno a generare questi superamenti per cui mi sento di dire che la situazione è sotto controllo sarà mia premura quella di informare la cittadinanza su quelli che sono gli esiti che usciranno quindi che pubblicheremo sul sito del comune di Fano ma per prima vi racconterò anche attraverso servizi e comunicati stampa Il secondo incarico affidato all'università, precisa Brunori, ha avuto un costo complessivo di 23.000 euro mentre il primo di 73.000 un impegno economico assunto dall'amministrazione comunale per uno studio approfondito mai eseguito prima d'ora in città Volevo anche aggiungere che come presidio di qualità dell'aria della città abbiamo la centralina di via Montegrappa che è la centralina storica quella è a flusso continuo per cui fa una rilevazione oraria, giornaliera e mensile di tutte quelle che sono le polveri lo scorso anno ho avuto 34 sforamenti, il limite sono dei 35 ho indetto una riunione straordinaria con ARPAM, quindi col direttore scientifico Catenacci e ASUR per capire se quelli che erano i provvedimenti che stiamo adottando con le ordinanze erano giusti ci hanno rassicurato in attesa degli esiti dei due minicampionatori e sono ripartiti i lavori per le scogliere lungo la costa afanese iniziati lo scorso ottobre, l'intervento era stato interrotto poco prima di Natale per delle esigenze di cantiere della ditta questa mattina fa sapere l'assessore al demagno marittimo Cristian Fanesi il motopontone ha iniziato a lavorare a Sassonia all'altezza di Bagnicarlo per la sistemazione dei massi che erano già sul posto poi tra una decina di giorni arriverà anche la nave dalla cava carica di scogli la regione Marche sostiene anche la candidatura della città di Pesora capitale italiana della cultura per il 2024 il presidente Francesco Acquaroli e l'assessore alla cultura Giorgia Latini hanno risposto ieri alla richiesta del sindaco Matteo Ricci nei giorni scorsi il vice sindaco Daniele Vimini si era detto incredulo perché la regione aveva espresso sostegno da Ascoli Piceno anch'essa in corsa per il titolo non mancherà occasione si legge nella missiva della regione di ragionare e condividere sulle progettualità da individuare per avviare una collaborazione per questo obiettivo non potrà mancare il sostegno della regione Marche in un percorso che arricchirà la città di Pesaro e l'intero territorio marchigiano di ulteriore prestigio e visibilità e adesso apriamo l'album di Fano TV l'album perché questa sera facciamo gli auguri a Silvia Ambrosini ed Emilio Cenerelli di Fano che oggi festeggiano 65 anni di matrimonio nozze di pietra nozze di diamante invece per Luciano Garbulli e Anna Fratini anche loro residenti a Fano li vediamo nelle due fotografie di allora e di oggi auguri da tutti i familiari e dallo staff di Fano TV vi annuncio che lunedì sera torna ovviamente una diretta per primo cittadino e l'ospite sarà il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli l'informazione invece torna domani mattina con il direttore Marco Ferri che leggerà insieme a voi i quotidiani io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti